Qualche notte fa un motociclista percorrendo una strada di periferia che costeggia uno dei tanti parchi cittadini ha investito un cinghiale ed è morto. Ci voleva questo evento tragico perché se ne cominciasse firmemente a parlare. Se cominciasse firmemente a parlare del problema cinghiali in città. Come risolvere questo problema? Mentre la procura indaga cercando delle responsabilità nell'amministrazione cittadina e anche nella direzione del parco c'è chi propone soluzioni strampalate, la cattura dei cinghiali per trasportarli in un altro parco come se non ce ne fossero già abbastanza e quelli che stavano già dentro non facessero altri danni. Oppure la castrazione ormonale che è un reato ecologico. Ci sono altre soluzioni? Si può trasformare questo problema in una risorsa? Si può e come? E ce lo dice anche la scienza. Quindi seguiteci in questa nostra puntata di Parliamo di Caccia con Bruno Modugno e avrete delle soluzioni.